Saranno delle card da 2, 5 e 10 euro a prendere il posto degli scatoloni e diventare i contenitori della spesa della colletta alimentare che si svolgerà dal 21 di novembre all'8 di dicembre. Cambia dunque la forma ma non la sostanza della 24esima giornata nazionale della colletta alimentare, la tradizionale spesa della solidarietà promossa a livello nazionale dalla fondazione Banco Alimentare. Quest'anno nei supermercati aderenti si potranno dunque acquistare queste card. Acquisto già possibile online dal sito www.collettaalimentare.it A fine colletta il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti che servono maggiormente e che nella nostra regione sarà distribuito dal Banco Alimentare ai 31.352 indigenti assistiti mediante 183 enti convenzionati. La decisione di utilizzare le card in luogo dei contenitori deriva quest'anno dall'emergenza sanitaria in quanto non possono essere donati fisicamente gli alimenti per ragioni di sicurezza sanitaria. Il passaggio di beni di mano in mano sarebbe infatti troppo rischioso. Per le stesse ragioni di sicurezza non ci potranno essere i consueti gruppi di volontari nei supermercati a raccogliere la colletta alimentare. L'anno scorso in Abruzzo nella giornata nazionale della colletta alimentare sono state raccolte 201 tonnellate di cibo che hanno contribuito così a 1.366.611 tonnellate distribuite durante tutto l'anno dal Banco Alimentare Abruzzo provenienti da grande distribuzione, industria agroalimentare, reti europee di sostegno alla povertà e appunto la colletta alimentare.